Buongiorno amici, video sportivo quest'oggi, video sportivo, si ritorna un po' al calcio, al calcio e all'Inter in particolare. Bene, la mia riflessione di oggi, visto e considerato che l'Inter inizia il suo campionato una settimana di ritardo, diciamo una settimana dopo, che oggi sarebbe una giornata di festeggiamento per l'arrivo di Vidal, che indubbiamente è un calciatore che, insomma, non c'è bisogno di presentazione, amici miei, aspettate un attimo che c'è un po' di flesso qui, togliamo un attimino, ecco qua, e volevo dire, grandi festeggiamenti, però la squadra ancora non è delineata o completa, se così vogliamo dire, il cosiddetto vice Lukaku non c'è, in effetti le punte sono contate, non abbiamo ricambi e a centro cambio il Vidal, che giovane non è, posta esperienza, ma poi alla fine credo che alla lunga dovremo, stando così le cose, sempre puntare su Gagliardini e su altri elementi di secondo livello. In Angolan si dice che parte, io lo terrei a questo punto, perché Angolan sarebbe una bella sfida, neanche lui è giovanissimo, però ci vuole, come pure Kolarov sulla fascia, non si sa che tipo di affidabilità possa avere. Diciamo che sono moderatamente soddisfatto, ma non completamente, perché, dite voi questo, perché non esulto, per il Vidal, eccetera, eccetera, perché, vedete, ho studiato e ho visto la Juve, una Juve che gioca, gioca a memoria, una Juve solida, che anche senza la punta centrale, c'è quel Zonaldo, ma comunque Kuluseschi, ma poi dovrebbe venire Vidal, cioè Vidal, scusate, Dibala, Dibala e poi immaginate un po' che se dovesse arrivare Dzeko, se dovesse arrivare Dzeko, Zonaldo, Dzeko è, nonostante l'età, uno che non solo fa gol, ma fa assist, amici miei, fa assist. Quindi già attualmente io vedo una Juve completa, collaudata, e quel pirlo, pirlo, dice, ma quello pirlo adesso sta vedendo? No. La Juve ha bisogno di allenatori che siano teste di cuoio, perché lì sia la formazione che la struttura è tutta, è pensata e diretta direttamente dalla società, insomma, da Agnelli. Quindi non vedo proprio, non credo proprio che possa decidere qualcosa il pirlo. Anche io sulla panchina della Juve farei qualcosa di buono. Quindi questa è la mia perplessità e vediamo adesso, ancora pochi giorni, vediamo il debutto con la Fiorentina, non è un cliente per niente facile, l'Inter deve vincere e convincere, non è che possiamo dire, vabbè, il Pisa, l'A7 gol, noi non dobbiamo basarci su queste partitelle estive, eccetera, eccetera. Il campionato sarà tutta un'altra storia. Quindi con questa perplessità io voglio sperare, perché quest'anno io credo che sia comunque difficilissimo contrastata la Juve e ci abbiamo un cammino in coppa. Adesso vediamo il primo ottobre, a chi becchiamo, ma siamo terza fascia. Non è facile, ci proviamo. Vabbè, questo è tutto, era una semplice riflessione e ci aggiorniamo a presto. Ciao a tutti.